è solamente il cane che deve imparare quello che vogliono le persone da lui una convinzione piuttosto diffusa tra varie persone che sia il cane che si deve adeguare alla loro vita a fare quello che vogliono loro indipendentemente da quello che prova sente il cane ma è una cosa giusta no la risposta è no bisogna imparare a conoscere il cane quindi le persone hanno bisogno di istruirsi ad imparare ed anche di fare un bagno di umiltà perché chi pensa così andrà incontro a problemi e probabilmente c'è arroganza c'è mancanza di umiltà molte pretese nei loro comportamenti atteggiamenti e questo li porterà ad avere problemi con il cane perché il cane è una specie diversa da noi quindi bisogna imparare a conoscere il linguaggio i suoi stati di animo le sue emozioni i suoi comportamenti e a capire com'è la corretta comunicazione con lui come si comunica l'altro tanto ce lo insegnano anche gli etologhi gli scienziati che studiano il comportamento o l'etogramma degli animali cosa fanno quando non sanno nulla di un animale si mettano lì per ore giorni mesi ed anni a studiarlo e quindi come possono le normali persone che sono ignoranti in quanto ignorano i comportamenti del cane deficitarie nel senso che mancano di conoscenze appunto del comportamento del linguaggio della specie pensare di far sta bene proprio il loro cane con le loro idee con quello che gli passa per la testa senza dover ascoltare il cane senza aiutarlo e senza volergli insegnare ed è per questo è importante che le persone si rivolgano ad esperti del comportamento del linguaggio dell'ammoneazione delle emozioni del cane e si facciano aiutare a capire il cane a farsi capire per sta bene insieme davvero una sana relazione ciao io sono stefano stefano pesci istruttore educatore cinofilo comportamentale specializzazione nel comportamento del cane nel benessere cane nella risoluzione problemi degli stati d'animo e della comunicazione e tante altre cose sono l'idiatore del metodo otto grad dog lei c'era un cane insegnante e cane di famiglia e ho studiato tanto da tanti anni sin dal 2002 ad oggi e continua a studiare perché ritengo che sui sui cani sul comportamento dei cani gli animali c'è sempre da imparare compreso dal mio cane ciao se ti fa piacere contattarmi dal mio sito internet www istruttore cinofilo punti t